Ciao amici! Sapete qual è l'errore più grave quando si parla di alimentazione? Da reta il dottor Squalozzi! Quello sì, ma ce n'è uno anche peggiore e vi spiego qual è oggi. Da decenni la comunità scientifica e gli esperti di alimentazione discutono su quale sia l'alimentazione più sana. Quella che fa vivere più a lungo, fa dimagrire di più, previene le malattie, conserva il DNA. E basta leggere un po' in giro per vedere che si dice tutto e il contrario di tutto. Chi sostiene la dieta mediterranea, chi la dieta paleo, chi la dieta chetogenica, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti pronti a scagliarsi contro le altre diete dicendo che sono poche sa, che sono poco sane, pericolose e che la propria dieta è l'unica valida. Ovviamente ognuno poi cita studi e ricerche per sostenere le sue idee. Ecco, vi dico subito, fate attenzione perché non è esattamente così. La ricerca scientifica sull'alimentazione ha una caratteristica fondamentale. Che nessuno capisce niente di quello che scrivo, no? In effetti c'è un po' di confusione. Questo perché le ricerche si concentrano a studiare singoli elementi. Per esempio come i carboidrati influenzano il livello di glicemia. Questo è un aspetto. Ma non si concentrano sul rapporto causa-effetto all'interno di un quadro più ampio, che è quello che fa la differenza sulla nostra salute. Per esempio, quanto è troppi carboidrati? Certo, lo studio dei fenomeni causa-effetto ha costi molto elevati e richiede molto tempo, fino a decine di anni di ricerca. E per questo gli studi davvero risolutivi, definitivi, sono pochissimi. Quindi, per noi che non siamo scienziati, questi approfondimenti sono utili quando ci danno poi consigli pratici e chiari. Meglio poche cose e chiare da fare che un mare di informazioni teoriche, da cui poi non riusciamo a trarre nessun consiglio, giusto? Per esempio, un consiglio sano per tutti, di sicuro, è muoversi di più e mangiare di meno. Su questo, tutta la comunità scientifica è d'accordo. Ma allora, perché non lo facciamo e ci mettiamo qui a discutere se è meglio essere vegano, paleo, keto o mediterraneo? Lo so che mettersi a discutere su chi ha torto, chi ha ragione, è molto più cool che mettersi a fare le cose veramente. Ma ricordate, la salute è una questione concreta, non è una questione di slogan o di chi è il più informato degli altri. Parlando di essere informati, ecco l'errore alimentare più grave, frutto della disinformazione. L'errore è considerare le verdure come un semplice contorno. Ah perché cosa sono, scusa? Allora, se guardiamo la piramide alimentare di qualunque dieta o stile nutrizionale, si capisce subito perché è un errore clamoroso. Quando tutti dalla Fondazione Veronesi all'OMS consigliano di mangiare tanta verdura più degli altri alimenti, è ovvio che non si tratta di un contorno, ma è molto di più. Non basta mangiare una carotina scondita per dire ah io mangio verdura. Ma sei sicura? Le verdure vanno mangiate in abbondanza, lo sostengono tutti gli studi e tutti gli esperti di qualunque dieta. Su questo almeno non litiga nessuno. Sì ma come faccio a mangiare più verdure? Ci hanno pensato gli scienziati di Harvard con un trucchetto infallibile. Così se non credete a me sicuramente potete credere a loro. Il trucco si chiama piatto unico, oggi Buddha Bowl, o chiamatelo come vi piace, ma fate così. Prendete il piatto, lo dividete a metà idealmente e da una parte lo riempite solo di verdure, cotte o crude. L'altro spazio lo dividete in tre, proteine magre, cereali integrali e grassi buoni. Facile no? Basta seguire questo trucchetto per mangiare più sano anche senza diventare necessariamente vegani, fruttariani, paleo eccetera. Ma comunque anche per i vegani, vegetariani, paleo eccetera vale questa regola del piatto unico. Come dico sempre, per la salute quello che funziona meglio è la semplicità. Tutto il resto sono chiacchiere da rivista o da bar e se una cosa è troppo complicata non funziona. Perché non si fa? Magari può essere piacevole, intrigante, di moda, ma non è trendy e sana? Amici trendy e sani, se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace e condividetelo con i vostri amici sui vostri social. Iscrivetevi al canale e abbonatevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ma sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao. Ciao. Magari può essere... Ma... Grazie.